E ora è il momento di ripassare alla capra E' il momento di got simulato Ha fatto il suo verso caratteristico e quindi bisogna Verichiamo se suona di una capra in calore Esatto Allì No Sapete la cosa eccezionale? No Non stiamo registrando il video Cosa? Testa a cort'ora? Sì Sì, stiamo a dare capri tutti quanti Ok Si prende così il mediare stress Perché siamo delle favole giranti Perché cazzo me ne faccio degli altri 5 minuti Dove abbiamo trovato la madonna Guarda che metti una canzone Ci metterò una canzone Ma non c'è neanche il video, capito? Lo commenti dopo Lo commenti dopo, dai Lo fai sembrare realistico Oh cazzo Va bene Ok, intro No, non metterò mai la intro Quindi diciamo Ciao a tutti ragazzi, io sono Vanish Questo nuovo video rolliamo per il nuovo eroe che si chiama Dracax Che cazzo ero me ne ho messo? Sì, Dracax Non si sa che cazzo ero me ne ho messo Vabbè E prima abbiamo fatto dei eroi assurdi Esatto Abbiamo portato un eroe che non registravamo Siamo in compagnia di? Ciclante E una capra Capra selvatica Capra selvatica Tu stai sacrificando gli animali a satana? Esatto È un sacrificio necessario Avevamo 9000 gemme ma abbiamo trovato un fottio di roba Dopo guardiamo che cazzo di talento Abbiamo trovato anche Warlock Cioè tutto il mondo tranne l'ultimo leggendario Dai la fortuna potrebbe essere con la fortuna Fortuna In raccorda 4,50 150 Più o meno Dai Mi devo scaccolare Mi devo scaccolare Che cos'è? Quanta fortuna Dai Oh no Snowzilla Vengendario è sbagliato però ci sta Dai ragazzi No Iniziamo a sacrificare e vediamo che talenti Iniziamo a vedere che talenti Ora la mano passa a me Esatto Ora aveva rollato la capra Guardate che cosa aveva trovato con 9000 gemme Cioè una roba Improponibile Io me ne fotterei il cazzo del campione E aprirei quelli più Cioè capito Gli occhi Esatto Ci abbiamo trovato gli ultimi 3 Metti come un giro No Boh non me lo ricordo No dai mancherebbe le di Leo Per dire Le di Leo Full team Me l'ho trovato di tutto E magari anche un quadri Tranne quello Io sono convinto che se vado tipo nella Nella prima pagina Nella classifica potenza Ti trovi direttamente i pompatozzi Con i 9 eroi evo 2 Andiamo a vedere i talenti Ah andiamo a vedere Metti tutti i carli in piaccia Che merda di talenti Beh buoni eroi Stamente di merda 1, 3 No 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 Non ci può per tutto nella vita Vabbè cazzo Il green feed doveva uscire un po' prima Comunque Ricciamo a count Torniamo subito Il pathos Ce la faremo Sì ok Ce la faremo Mi sa che ce n'è poco qua Però in un altro ne abbiamo sui 6.000 Ah no Prendi andati Doi fare cosa 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 No roda a 4.50 Cosa 2.000 Ah 2.000 No dai non inizia a fare i commenti sulle 2.000 Dai faccia subito Dai Vai 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 rolla rolla Ciclante ciclante sta a te Ti fa se Che chiamo Cosa Ma quando vado a compri una continua Ah vediamo Quest'account c'è ogni cosa Ah l'hai rollato direttamente nell'altare Fenomeno Vediamo Dei baraccone Fanculo Ah rallentamento a te I talenti Sì ma guarda gli account C'è nel senso Ma guarda lì che Vabbè Che mi chiederai ci sono Cambi account Sono venuta Switch switch Qui c'è il negro Ragazzi Tutto magico Qui c'è il negro Tutto magico Tutto magico Cazzo Lo loading successful Cazzo Non so quante ce ne sono Non so 566 Tocca la capra 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 Vediamo se c'è Perché poi sotto creo Ah 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 Questo non me l'ho aspettato No ok Due painda Due painda Voi non l'avete Voi non l'avete visto Non l'ha fatto la capra Cambiamo account No l'ha fatto la capra 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 Qual è quello con 6.000 Non lo so Ah 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 C'era Un grande iniqui Sì ce n'era uno con 6.600 Ma Ah ha sbagliato a loggare Vabbè l'ogolino Loghiamo Aveva sbagliato Aveva sbagliato a loggare Dai che sei su facebook E Cosa Taggati su facebook Così a random Centro Oh 6.000 6.000 Vedi Ah vediamo l'account Imbarazzante Chissà perché c'è un assassino Fuori nient'altro C'è di meglio Metti ninja No 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 E si inizia a rollare L'assassino è l'eroe più bello del mondo Fidati Allora Ti apre Cosa Devono essere video anche per minori Forse ti bip però Non lo so Non ne sono sicuro Comunque andiamo nell'altare Ciclante Ciclante ci devi graziare Con un bel tritone No Ok Ora Ok Ok Eh E' sempre più la E' sempre più la E' sempre più la E' sempre più la Non mi avventura C'è chi è fondamentale C'è chi è Se capo Beh E' C'è chi è una testa ragazzi C'è chi è la かな C'è chi è la Andrei fai la 4.5 Questa pausa? Andrei 4.50, giù No, mi fai Ma hai rivelato il nome della capra da mezzo Death Night Non può essere in mezzo Ma che nasi domenino Death Night Sai quanti è in mezzo? Faccio un altro? Si, 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 vai, vai E troviamo il nove rove Troviamo il nove rove E troviamo il nove rove No, ora ci denunceva per copyright Switch in Che cosa? Switch in Ah, si, si, si In carte Candy cane Viva le caramelle Il cane delle caramelle E' il momento di venice Vado io? Vado io? E' il momento di venice Vado io La roba in un angolino 4.50 4.50 2 sciamani Nulla Morte 3.000 Ancora Vediamo Unigiant 150 4.50 No 4.50 Non scopo Sacrifichiamo un po' No, si è il mettitore Dai No, no Il mettitore è fondamentale Guarda Questa di istruzione qua Il mettimento più utile Però Lui muore due volte No, non scherzavo Non si attiva solo con la prima volta No, no Muore sette volte Allora 4.50 No 1.50 1.50 1.50 4.50 5.50 5.50